Non melò Il tema della giornata non è stato Stoner che ha vinto, stravinto la gara perché poi alla fine non si è sentito dire Stoner c'è, tutti i piedi sul divano, forza, l'inferno, però il tema è stato Simoncelli in versione Saviano, intimidito, Pedrosa che non riesce nella recuperazione e Valentino Rossi che va meglio dell'anno scorso ma purtroppo, questo è un complotto, Si sono messi tutti d'accordo che devono correre quest'anno, guarda che è una roba incredibile, un accanimento, tornando ai temi veramente importanti, Stoner c'è anche se non si può dire, però c'è perché ha una onda troppo superiore, peccato che tutte le altre onde superiori non siano dietro di lui ma ci siano le Yamaha, Lorenzo che ha tenuto e un altro signore che non ho capito chi è, perché non se ne è parlato un gran che, in realtà dietro Stoner avrebbe potuto esserci Pedrosa ma quello lì è un capriccioso, purtroppo, insomma, dai si sa che se uno si rompe due spalle altre ossa sortite nel giro di pochi mesi, poi dopo la terza frattura il giorno dopo può tornare in sella, l'hanno detto, dei luminari, secondo l'ossologo, così si può dire ossologo, questa è ancora una battuta, si può, poi dipende dalla spalla, perché invece per altri diventa una scusa eterna, poi dipende dalla moto che guidi, insomma, dipende da tanti fattori, ma insomma, generalmente dopo la frattura e la clavicola il giorno dopo tu puoi correre, puoi guidare la MotoGP, infatti anche Edward poi che si è rotto la clavicola il giorno prima, voleva correre lui, il giorno dopo, poi purtroppo l'hanno tenuto, un po' come fanno quelli lì che in discoteca ti vogliono picchiare, si fanno tenere da 4-5 persone, così non rischiano veramente di dovertele dare, tenetemi, tenetemi, anzi lasciatemi, lasciatemi, purtroppo è mantenuto, sai, insomma, se no avrebbe corso Edward, ci credono tutti che avrebbe corso, però non ha corso, peccato, vabbè, insomma, Pedrosa è uno psicopatico, sente la pressione, l'anno scorso Lorenzo sentiva la pressione, Stoner sentiva la pressione, non esiste che uno può stare male e si è infortunato, sentono tutti la pressione, è un mistero, perché Pedrosa non è venuto alla gara di casa? Perché gli dà fastidio che aveva la spalla rotta, era infastidito che doveva dare spiegazioni a tutti, ecco perché non è venuto, ma poi saranno anche fatti i suoi, ma tutti psicopatici, anche quello lì che si vomitava nel casco Stoner era psicopatico, vabbè, i psicologi su Re-Educational Channel, tornando al mega tema Simoncelli, il più battuto di tutto il weekend, in versione appunto pentito, scortato in quanto perseguitato, ha fatto la pole, bravissimo, tanto di cappello, bravissimo, super sicce, poi però ha sentito la pressione dei fischi in gara e poi purtroppo lui alla partenza pesa più degli altri, e quindi è partito cauto, cioè uno che parte in pole dopo tutte le due curve, settimo, sesto, settimo, parte cauto, cauto si dice, è un po' come me che sono diversamente magro, insomma non è più onesto dire che è partito male, ha girato male, i tempi non erano i suoi, era nervoso, ha perso il tre, no, è cauto, per il resto insomma pur senza mettere in dubbio le minacce mi si è consentito dire che in tutto mi è sembrato un po' enfatizzato, insomma mandarlo in giro con due discorte in base a una mail ricevuta è un po' troppo, anche perché seppur vestito da membro del team, lo sbirro è sbirro, come dicono in tv, lo sbirro è sbirro, e quindi il terrorista, perché prima si è partito da stupido, poi quello che minacciava, terrorista, l'escalation, terrorista, se ne accorge che lo sbirro è sbirro, dai lo sbirro è sbirro, si vede che uno, anche se è vestito da membro del team, è uno sbirro, vabbè, saranno contenti gli sbirri, comunque per tutto il tempo non si è fatto altro che parlare dei fischi, dimenticando che a Misano l'anno scorso hanno fatto la stessa identica cosa, non ne ha parlato nessuno, sotto il podio a Misano fischiavano Lorenzo, e non è male come modo per smorzare i toni, poi non ci lamentiamo che dopo gli idioti ispanici, poi dopo nella gara di casa nostra vedremo anche gli idioti italici che fischieranno perché gli hanno spiegato che tanto hanno fischiato quell'altro, quindi, vabbè, parlando della gara, una noia assoluta, e voglio ammenarla con gli ascolti, una noia assoluta, la baracca l'hanno tenuta su Stoner che terapava su tutta la pista, e Capirossi che duellava con Care Labram per il dodicesimo posto, il decimo posto, una roba, ragazzi, con Care Labram, vabbè, volevo poi fare in chiusura i nomi di due personaggi misteriosi, tale Spis Benjamin, che è un tizio che è salito sul podio, e tale Dovizioso Andrea, che è quell'altro italiano, non so se l'avete visto, che finisce sempre davanti a Rossi quest'anno, purtroppo Dovizioso c'è stata una cosa anche abbastanza incresciosa perché è stato visto mentre andava in un internet caffè a spedirsi un email di minacce, così almeno se lo cagano un po'. Zvicero no Dovi